Io sono entrato in municipio insieme a un'altra persona, depositando tutta la documentazione, verificando nomi e cognomi, firme e quant'altro e alla fine ci è stata rilasciata una ricevuta dall'amministrazione dove c'era scritto che tutta la documentazione era a posto. È su questa ricevuta che Michele Sarri punta per la riammissione della sua lista nelle prossime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Oderzo. Dopo l'atmosfera incandescente di sabato sera, questa mattina non c'era ancora la notifica dell'annullamento della sua lista come di quella del candidato Marco Durusiane e della terza di Tino Alescio nell'arbo pretorio. Notifica peraltro presente sul sito del Comune che ha messo in moto tutta la macchina dei ricorsi. Gli avvocati stanno prendendo in mano le carte e proseguendo con tutto l'iter e aspettiamo l'esito fiduciosi. Iter che le tre liste hanno deciso di affrontare assieme dopo l'esclusione da parte della Perfettura a seguito dell'evidenza delle firme raccolte in due fogli distinti senza alcun timbro o segno che garantisse la legalità della procedura. Anche qui i ricorrenti obiettano che i moduli scaricati dal Ministero non specificano che debba non essere un unico foglio o due ma con timbro di partito o movimento, ma che anzi permettono di stamparli distinti. Un errore fatale che hanno fatto a Doderzo ma anche a Pordenore in questa tornata elettorale, ma che è già capitato a Vede Lago con le liste di Paolo Quaggiotto e di Diego Bergamin e a Treviso per Vittorio Zanini e Fratelli d'Italia e tutti nel 2013. Ecco perché dagli esclusi al di là del ricorso parte un appello ai parlamentari del territorio e al Presidente Luca Zaia. La gente è stanca, la politica non possiamo lamentarsi se poi i partiti e la politica falliscono. Ci vuole il coraggio di chi governa nel modificare questo sistema burocratico che fa letteralmente schifo.